Esistono posti ed esistono luoghi. Nei luoghi tutto è diverso. In essi le persone si sentono parte di qualcosa. Ogni cosa ha un valore profondo, vero, intenso. E tu ti sentirai parte di tutto ciò. Quando entrerai, riconoscerai ogni dettaglio della tua vita, ogni aspetto importante. Tutto sarà parte di questo insieme. In questo luogo capirai la differenza tra un semplice hotel e il Marconi Hotel. Ti sentirai parte di qualcosa che potrai chiamare casa. Ti sentirai unico, contribuendo con ogni istante che vivrai a renderlo vero. Qui sarai il benvenuto. Grazie. Grazie.